Le guerre di indipendenza italiane. Le guerre di indipendenza italiane furono tre conflitti che si svolsero in Italia tra il 1848 e il 1866. Questi conflitti ebbero come esito l'unificazione politica dell'Italia, che era divisa in diversi stati, tra cui il Regno di Sardegna, il Gran Ducato di Toscana, il Ducato di Parma e Piacenza, il Ducato di Modena e Reggio, il Regno delle Due Sicilie e il Lombardo Veneto, che era governato dall'Austria. Prima guerra di indipendenza 1848-1849. La prima guerra di indipendenza fu scatenata dalla rivoluzione del 1848, che scoppiò in molti paesi europei, tra cui l'Italia. In Italia, la rivoluzione fu guidata da patrioti come Giuseppe, Mazzini, Giuseppe Garibaldi e Vincenzo Gioberti. Il 23 marzo 1848, la Sicilia si ribellò al governo borbonico e proclamò la sua indipendenza. Il 18 marzo, il re di Sardegna Carlo Alberto dichiarò guerra all'Austria. La guerra si svolse in Lombardia e nel Veneto. I piemontesi ottennero alcune vittorie iniziali, ma furono poi sconfitti dagli austriaci a Novara il 23 marzo 1849. La prima guerra di indipendenza si concluse con la sconfitta dei patrioti italiani. Il regno di Sardegna perse il territorio conquistato in Lombardia e nel Veneto. Seconda guerra di indipendenza 1859-1860. La seconda guerra di indipendenza fu scatenata dalla politica del primo ministro piemontese, Camillo Benso Conte di Cavour, che mirava a unire l'Italia sotto la guida del regno di Sardegna. Nel 1858, Cavour siglò un accordo segreto con la Francia, in base al quale i due paesi si sarebbero alleati in caso di guerra contro l'Austria. Il 20 aprile 1859, l'Austria dichiarò guerra al regno di Sardegna. La Francia intervenne in difesa. Della Sardegna i due paesi sconfissero l'Austria nella battaglia di Magenta il 4 giugno 1859 e nella battaglia di Solferino e San Martino il 24 giugno 1859. Con il trattato di Villafranca del 12 luglio 1859, l'Austria cedette alla Francia la Lombardia. Il regno di Sardegna ottenne la Lombardia e il ducato di Parma e Piacenza. Nel 1860, Garibaldi partì da quarto con un gruppo di volontari, noti come i Mille, per conquistare il regno delle due Sicilie. Garibaldi sbarcò in Sicilia il 11 maggio 1860 e, dopo una serie di vittorie, conquistò l'intera isola. Grazie a tutti.